ma ragazzo Alex bravo hai detto hai detto proprio bene stavol'insieme contro un match che non abbiamo mai visto e soprattutto qui a Napoli ma in effetti di ramiro a Alex non è che succede il range dalla parte sicura anche secondo me è abbastanza proietti però la mobilità di youtube però ottima e qui a giacolare quindi verticalmente perché tanto 81 per cento vantaggio e' buono per entrambi oh legge perfettamente costretto all'air dodge con quella piccola l'ho lasciato la seconda stock la porta a 23% la jump jump c'era stato un air dodge la alex va con questo side b non puoi lamentare i danni 15% brutto errore con teleport sullo stage quindi stock in verità però 40% di partenza alex drop a a pro penso che abbiamo sclippato però brutto ai dina ha sclippato però noi lo lasceremo attenzione qui può pulire secondo bait fox offre tutto alex dovrebbe provare sopra se rimarrà sicuramente un fox è molto provato dovrebbe provare a mantenere il gioco on stage anche se condivino è abbastanza difficile la pressione la pressione la pressione sopra il gioco ehm 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 che cosa c'è di sbagliato nel nostro microfono scusami che cosa c'è di sbagliato è una testa di emmy che è a casa e non qui abita a 20 metri dalla location intanto inizia ma secondo me lo troviamo che sta entrando nel negozio non puoi aver commentato su inizia game 2 stanno con gli stessi personaggi sì chietto keb jeb che sapete di primi danni 16% infatti con il neutral alex danni molto velocemente come prima la fase iniziale è per alex 049 055 stanno molto bene durando alex però al contrario non è che unisce frequente come spesso ora invece si sta prendendo pari a un tettero secondo me non avrebbe le luci e the shot attacco tra leggi tra e dinamica lecce lecce vado la spesce entri mi sarà chi la casa ottimo ottimo alex che ora sono 32 per cento può gestire questa lead e ora che era proprio di prende subito il grilletto e prenderlo con the shot a breccare tutta la combo prima nella ancora il il prova i pirouette la parte mandano la con delle con po ma che alex sta prendendo il sopravvento il tanto la rage andò arriva però il bistoc solo con la pay a casa prima per alex a 1 la dina siamo talmente secondo in italia nel pr con in alex invece 17 probabil no c'è roberto davanti è vero aspetta anche su ciao io battessimo per coperta il prossimo match entrerai in top 16 è già top in m2 ed un m3 su cap vedere ma gi questo premio e fa molto il paris ho appena detto si inizia a prendere i danni ok però adesso ancora la pay non lo riesce e per coprire ancora la pay e e arriva il back air air qui ledge trump arriva il down smash abbiamo ancora ledge trump e su poi la 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 per pulire questa cosa e dovrebbe provarci secondo me almeno in mix up potrebbe non potrebbe uccide la legge aiuto un pochino pokemon porta il primo primo stop al dino killer del dintyke ora dub dice amo forge non riesce il back air da parte sua buona che ha lasciato il bolso ha molti da neanche anche sapere però si può leggere troppo attivare arriva l'app smash jack jack up smash questo è true lina ha fatto air dodge perciò ah 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 1% e ancora tutto è libero ancora tutta da vedere tutta da giocare bello più a tilt torna la nuova ora rinno copre ma l'app tilt è più veloce torna di fox e ancora qua c'è e ancora e fox il 56% ah non ha lì l'incipitato sale qui eh l'ho 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 lì e ottimo mamma mia l'ho 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 i Contro un solito Jake In mancanza Avremo il match 4 Sarà a Dachlex Probabilmente Sarà bannato Bannata C'è bannata C'è bannata C'è bannata Adrima Sicuramente Sarlo Diciamo che Le portavolme possono Vedersi Ah Ah Che vanno aprisi Sulla Ah Ah Per dinamite Per il vero Ma so Dove Aerea Aerea Ora Anni la O Inesorabilmente A chi Anitta Alex sta cercando Grazie alle piattaforme E se ne va Ovviamente Però secondo me Se l'avessi colpito Anche molti danni Si è misurato la palla Perché Poi se ne è scappato Di notire Non l'ha seguito Contenti C'è 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 Per Trova Killare Potenzialmente Ultima Stock Alex Però No Inesorabilmente Ancora Arriva La Ilta Perché Il Che Cerca Colmire Il 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 accolvere Questo Ancora No i Tativo Quoi due frame però parte di 100 ma non sa recuperare e no ottimo bello e vede la schivata non si aspettava a reversare alex sbagliando in questo caso è il bello a girarsi sulla metà forma arriva la per fare può farcela secondo game non è stato aspettato perché il vantaggio è qui si prende la scocca ma davvero molto molto close dell'ultimo match 3 a 1 e passadina grazie